signora scusi mio essere sciatto ma come avete non ho avuto il tempo manco di lavare i miei facci da stamattina ora perché ho fatto tante cose ancora devo continuare almeno fino alle 18 quindi sì siamo attaccati al cellulare infatti ora mi sono fermato ho detto ma vediamo che è successo in queste ore che sono mancato e trovo il suo commento noi sì siamo attaccati al cellulare scelto perché fa parte del nostro operato giornaliero perché noi siamo influencer lei non sa ciò chi è ma lei almeno noi siamo attaccati al cellulare per fare video intrattenere fare anche compagnia le persone che ci guardano lei invece vedo che è attaccato al cellulare ma per fare salotto e per commentare scelto perché come come perdo tempo io a fare il video a pubblicarlo lei perde tempo a guardare il video e a commentarlo scelto quindi uno a uno parla al centro cara signora e se lei mi guarda vuoi vero che non è avuto manco tempo da spargare la testa scelto comunque la voglio bene continui a guardarmi scelto ah signore caso raro il conte vuole aggiungere qualcosa amore vieni aggiungi qualcosa alla signora scelto noi sicuramente stiamo attaccati tutto il giorno al cellulare ma perché lo dici tu non perché veramente è vera questa cosa ma tu come fai a saperlo si vede quando ti svegli la mattina attacchi il cellulare e ci stai tutto il giorno con il cellulare attaccato e ci segui e noi siamo contenti grazie seguici sempre col cellulare attaccato e guardi in che condizioni siamo da stamattina questo perché non facciamo niente siamo solo al cellulare scelto a dopo a dopo sabato tesoruccio bello io lo so perché c'è scritto questo perché volevi la miglior risposta comunque signora non faccia tanto salotto non non vi dissi troppo tempo lei non cellulare scelto fra soggile a soro a mamma a cugnale vicino in casa faccio facessi un po' di pulizia come noi cucinazzi un po' scelto qualcosa in più del cellulare i love you mi piaci tu i love you scelto